Buongiorno a tutti, anche stamattina ci siamo svegliati così, con un'altra minaccia di far cadere il governo su tutti i giornali italiani e poi un attacco frontale a me, che è di Matteo Salvini, sui social, con il mio volto, dicendo che il Movimento 5 Stelle ha il governo col PD e Forza Italia in Europa già da due giorni. Ora, io posso capire che si attacchi il Movimento 5 Stelle per fare notizia e coprire le inchieste che riguardano i finanziamenti alla Lega di questi giorni, però questa è una falsità ed è un attacco grave frontale con una falsità che io non posso assolutamente permettere, perché si deve portare rispetto al Movimento 5 Stelle e oggi, se vogliamo seguire questo schemino qua, chi sta al governo delle regioni con Berlusconi è la Lega in tutte le regioni italiane e in tutti i comuni in cui governa in Italia. Se vogliamo seguire questo schemino qui, chi sta al governo con Renzi di fatto su Radio Radicale, sull'affossamento del salario minimo su cui sono d'accordo o sul TAV Torino-Lione, è sempre la Lega, sono loro che votano insieme contro di noi. Poi, per carità, io ho fatto un contratto di governo sapendo che non eravamo uguali, che ci sono tante differenze, ma non si possono dire queste falsità. E lo voglio dire perché sulla questione della Presidente della Commissione Europea, la van der Leyen, non può assolutamente essere usato a pretesto per attaccare il Movimento 5 Stelle. La Presidente della Commissione Europea è stata indicata e candidata al Consiglio dell'Unione Europea e in quel Consiglio siede il governo italiano e il Presidente Conte, prima di dare l'ok alla van der Leyen, che poi si è presentata al Parlamento in questi giorni, ha chiamato sia me che Matteo Salvini. E infatti, sia io che Matteo Salvini, per quanto non fossimo entusiasti, sapevamo che quella era una posizione utile all'Italia, perché l'Italia avrebbe avuto un portafoglio pesante per aiutare le proprie imprese. E tra l'altro, siccome ha vinto la Lega alle europee, decidano loro il commissario alla concorrenza, che è un portafoglio pesantissimo, che ci permette di fermare una serie di procedure contro l'Italia vergognose sugli aiuti di Stato, che non ci permettono di aiutare le imprese, sull'antitrust. Poi che cosa è successo in questi giorni? Che noi in Parlamento abbiamo votato la van der Leyen perché ha detto che vuole fare il salario minimo europeo, ha detto che vuole rivedere il regolamento di Rublino, o quello sui migranti, ha detto che vuole rivedere alcune misure sull'austerity. Quindi noi abbiamo detto sì per dei temi. Loro perché hanno detto no? Perché a un certo punto la Presidente della Commissione non ha più garantito che potesse essere un leghista a prendere la poltrona di commissario europeo. E così hanno deciso di non votare, dopo che avevano detto pubblicamente a tutti gli italiani che avrebbero votato la Presidente della Commissione. Ecco, io sono un po' stufo, vi dico la verità. Lo dico perché io voglio abbassare le tasse in Italia, voglio sbloccare 87 miliardi di euro di infrastrutture bloccate per creare lavoro, voglio fare le leggi che ci permettono adesso di abolire il canone Rai, come quella che abbiamo presentato ieri, una legge che ci consente nei prossimi anni di abolire del tutto il bollo auto, che è un altro di quei balzelli insopportabili per gli italiani. Voglio abbassare il cuneo fiscale che significa più soldi in busta paga per gli imprenditori quando assumono. E perciò voglio andare avanti. Ma se la Lega vuole far cadere il governo, lo dica chiaramente, non c'è bisogno di tutta questa roba, addirittura con delle falsità contro il Movimento 5 Stelle ogni giorno. Se la Lega non vuole più che questo governo vada avanti, se ne prenda la responsabilità. Io non credo che in questi mesi abbiamo fatto male per l'Italia. Abbiamo fatto delle leggi importanti, molte sono a firma mia, sia come Ministro del Lavoro che come Ministro dello Sviluppo Economico. Ogni giorno con i tavoli di crisi, con i provvedimenti cerco di aiutare le persone. È un governo che sta portando a casa i risultati. Ma con questo clima si fa male al Paese. Non è che si fa male al Movimento 5 Stelle. Il tema non è il Movimento. Il tema è che con questo clima di tensione continua si fa male al Paese e soprattutto quando si minaccia continuamente di far cadere il governo. L'unica cosa che produci è che le imprese non investono perché non sanno chi ci sarà domani al governo. Quindi aspettano. Gli investitori internazionali non vengono. Quindi crei quel clima di incertezza. Ma se si vuole far cadere il governo, ci si prenda le proprie responsabilità. Sempre queste mezze frasi, queste piccole minacce, queste sono inaccettabili. E se poi mi si accusa anche di stare al governo col PD, ricordo a tutti che col PD la Lega si è votato Radio Radicale, Radio Soros, il salvataggio di Radio Soros. Voteranno insieme sulla TAV. Voteranno insieme per togliere il tetto dei 9 euro all'ora sul salario minimo, molto probabilmente, perché stanno bloccando quel provvedimento. Sono d'accordo sul fatto che l'acqua non vada resa pubblica. E infatti stiamo cercando di trovare un accordo a livello di governo perché per noi l'acqua deve tornare pubblica. Se vogliamo metterla così, allora io ho tante ragioni per dire che loro vanno molto d'accordo col PD. Io col partito di Bibiano non voglio averci nulla a che fare. Col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie, i bambini con l'elettroshock per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare. E sono stato in questo anno, quello che sicuramente ha attaccato di più il PD, di quanto l'abbiano fatto tutti gli altri partiti, perché forse erano d'accordo su alcuni provvedimenti. Io credo che su questo noi dobbiamo esigere rispetto come Movimento 5 Stelle. Io vado avanti in questo governo per fare le cose, non per passare ogni giorno il tempo a fare i meme o a raccontare cose che non sono vere. E cerco di andare avanti. Poi abbiamo le diversità, ci possiamo anche scontrare, ma sulle cose vere, non sulle cose false. Noi alla Van der Leyen abbiamo detto sì per dei temi e se non li farà non daremo più alcun sostegno ai provvedimenti in Parlamento. Ma se vogliamo seguire lo stesso criterio di questo meme, e allora qua ci deve mettere Orban, che governa con la Van der Leyen, alleato della Lega. Qui ci dovete mettere quelli del PIS di Kaczynski, che governano con il PD, avendo votato anche loro la Van der Leyen. Tutti i sovranisti hanno votato la Van der Leyen. Perché la Lega si è spilata all'ultimo momento? Beh, ci sono conversazioni su Twitter di esponenti dell'Europarlamento, della Lega, che ringrazio anche per la sincerità, che hanno detto abbiamo dissimulato facendo credere al Movimento e al Conte che avremmo votato la Van der Leyen e poi ci siamo sfilati. Si sono sfilati perché non hanno avuto la garanzia di mettere un leghista nella Commissione. Ma se la Lega riesce ad ottenere il commissario per l'Italia, noi sosterremo questo percorso. Io sono leale fino alla fine e se in questi giorni sto dicendo che il Ministro dell'Interno è meglio che vada a riferire in Parlamento, non è per la colpevolezza, anzi, tutt'altro. Sono stato Vicepresidente della Camera per cinque anni e so bene che quando si fa a riferire in Parlamento e si hanno le proprie ragioni, si spegne tutto un'ora dopo che quel confronto, quel dibattito parlamentare si è svolto. Invece, proprio dicendo che non si vuole andare, si alimentano i sospetti. E allora, io l'ho detto stamattina, se avessi il minimo sospetto che la Lega avesse preso dei rubli russi, mettiamola così, io non starei al governo con loro. Però ci devono mettere in condizione di difenderli. Se invece di difenderli si scagliano contro per riuscire a coprire quell'inchiesta, e questo è veramente ingiusto per una forza politica che in questo anno ha portato avanti nove provvedimenti su dieci in questo governo. Portato avanti provvedimenti importanti per gli italiani. Ora, secondo me, la Lega deve scegliere se l'interesse personale del proprio partito o l'interesse del Paese, perché così non si può andare avanti. Si prendano le loro responsabilità. Per me si va avanti con questo governo se si fanno le cose. E non sarò mai io a minacciare la crisi di governo ogni giorno sui giornali, perché per me questo governo deve durare quattro anni, perché si ha portato la disoccupazione al minimo storico dal 1977, si ha portato il livello di investimenti dei comuni lo sta alzando con le norme che mettono i soldi nei cantieri. Se sta per fare una legge di bilancio in cui bisogna fare la flat tax, in cui bisogna abbassare le tasse, questo è un buon motivo per andare avanti, perché stiamo pensando agli italiani e non stiamo pensando alle strategie tra partiti e strategie di bottega interne alle segreterie di partito. Io ci tenevo a dirvi questo perché è un fatto importante quello che è accaduto stamattina, perché non posso tollerare un attacco frontale di questo tipo, ma non a me, al Movimento 5 Stelle, perché dire che stiamo governando col partito di Bibiano è veramente un'accusa ingiusta e falsa. Vadano da Orban e vadano dai loro amici sovranici ad accusarli allora di governare col PD, perché così non è per Orban, così non è per noi. è un'accusa Grazie a tutti.